Molto soddisfatto, è un intervento che una volta pubblicato in gazzetta ufficiale entrerà nelle case di milioni di italiani in maniera positiva, risolutiva taglia i tempi della burocrazia, c'è ad esempio passiamo, e questo è culturalmente una rivoluzione liberale passiamo per la pubblica amministrazione dal silenzio rigetto al silenzio assenso che penso sia al passo con la modernità, quindi oggi incredibilmente c'era l'ipotesi, anzi la fattualità che in caso di mancata risposta permesso era legato, adesso cambia completamente l'impostazione se la pubblica amministrazione non risponde vuol dire che il cittadino può fare quello che ha chiesto di fare, ci sono interventi sulle piccole irregolarità che riguardano la vita di tutti i giorni vetrate, tende, verande, soppalchi, gradini, grondaie, finestre, paesi e porte interne tutto quello che c'è all'interno delle abitazioni, quindi non è un condono sull'esterno una villa abusiva con piscine e tre piani costruiti in più senza autorizzazione la maggioranza delle case italiane ha questo problema decennale di una suddivisione dei locali interna diverso rispetto alla piattina originale che non comporta un carico diverso e che ha decreto pubblicato spero da lunedì il conto che faccia andare tantissima gente in comune a pagare quello che deve, i comuni liberano i propri uffici tecnici comunali da alcuni milioni di pratiche, sono stipate in 4 milioni le pratiche sulla difformità di 3 cm della finestra rispetto alla luce originaria, il comune incassa, il cittadino paga, rientra in pieno possesso del suo bene, può vendere, può comprare, può rogitare, può mutuare, ovviamente ci sono tolleranze costruttive tra il 2 e il 5% in base alla superficie, c'è il superamento della doppia conformità richiesta a gran voce da tutti i professionisti, c'è il silenzio assenso, ve lo dicevo, c'è una semplificazione anche del cambio di destinazione d'uso di singole unità immobiliari ovviamente nel rispetto delle normative di settore e delle condizioni comunali, le opere di semplificazione, spurocratizzazione e liberazione di denari immobili ed energie, conto che possa anche con questa quantità di immobili regolarizzati che possono tornare sul mercato, possano avere anche un riscontro positivo in termini di diminuzione del costo del mattone.